Stefano Baldini, CT delle nazionali giovanili di atletica leggera, la stagione internazionale 2016 parte da Padova anche per i giovani che seguono il campione olimpico. Parte col botto perché ospitiamo il tradizionale triangolare Juniors indoor di lanci lunghi proprio in Italia con la Francia e la Germania con le quali c'è una collaborazione ormai storica e per noi è il primo momento per fare il punto della situazione sulla stagione invernale. Ci sono già stati i campionati italiani giovanili quindi under 18 e under 20 e da lì è uscita questa squadra che secondo me può fare molto bene. Abbiamo un paio di assenze importanti però la media è molto molto buona e la squadra è molto molto compatta. Abbiamo anche alcuni dei talenti più importanti giovani dell'Italia, penso una su tutti Marta Zenoni. Cosa si aspetta anche dai nomi più importanti di questa squadra? Non solo Marta Zenoni, anche Stefano Sottili, Laria Verderio, ci mancano Bocchi e La Stella che sono sicuramente due dei nostri top giovani. Però come dicevo prima la squadra secondo me è molto compatta e queste sono anche esperienze formative ancora per dei ragazzi come la Zenoni che hanno 17 anni quest'anno e che si vanno a confrontare anche con dei ragazzi più grandi. La Germania è sempre molto molto forte in questo tipo di gara e ci batte quasi sempre. Noi faremo in modo di arrivare vicino vicino fino alle staffette che sono poi la gara che fa la differenza. Puntiamo molto sul fattore campo che ci darà sicuramente una mano. I ragazzi conoscono il pala indoor di Padova e il pubblico sarà dalla nostra e noi dobbiamo sfruttare a pieno questa opportunità. Ultima domanda. La nazionale giovanile deve guardare al futuro per definizione. Sta facendo bene negli ultimi stagioni però manca un po' la nazionale maggiore. Quindi un po' la responsabilità anche quella di offrire un'alternativa e un futuro alla nazionale maggiore che negli ultimi stagioni è un po' deluso. Siamo in una fase di ricambio generazionale nel senso che in nazionale maggiore abbiamo ancora dei ragazzi, tanti ragazzi over 30. Oggi la longevità va avanti nel tempo. Basta fare dei grandi complimenti a Ruggero Pertile che farà l'Olimpiadi a 42 anni. Noi stiamo cercando di mettere i nostri talenti, e sono tanti, nelle condizioni migliori per poter esprimere le proprie potenzialità da oggi in avanti. L'atletica giovanile deve essere soltanto una fase di passaggio, di allenamento, di costruzione tecnica. L'atletica vera viene dopo. Siamo così un po' in difficoltà quando dobbiamo creare questo passaggio tra l'attività giovanile e l'atletica professionale, professionistica che si fa dopo i 20 anni. È un po' la difficoltà di tutti gli sport in Italia in questo momento e ci vogliono delle contromisure che stiamo cercando di mettere sul campo.